Cari amici di Caffeina, il popolo del gossip è in fermento. Pare infatti che una delle coppie più chiacchierate sia scoppiata. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia si è lasciata a pochi mesi dal matrimonio e dire che i due, quando sono stati ospiti a Verissimo, sembravano super affiatati. Infatti avevano annunciato nel salotto di Silvia Toffanin che si sarebbero sposati ad ottobre 2023 perché a settembre c'era la vendemmia. Nel giro di poco tempo la situazione è andata incontro ad uno stravolgimento improvviso. Cecilia è da giorni che non indossa più l'anello e Ignazio sembra aver già lasciato il loro appartamento. All'inizio in molti hanno pensato che Moser avesse tradito la Rodriguez ma a quanto pare la causa della rottura è da ricondurre a dinamiche familiari. Su investigatore social si apprende che i tradimenti non c'entrano nulla. Questa crisi è iniziata per bugie molto grandi e promesse non mantenute. Ma udite udite, pare che non sia stato messo ancora il punto definitivo alla loro storia. Lo scopriremo nei prossimi giorni.